Salve carissimi amici tutubi qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla questo è il video letture acquisti del corso del mese di maggio, un mese ricco di letture e di acquisti e lo dico anticipatamente anche se effettivamente mentre sto registrando ancora siamo a metà mese più o meno siamo a metà mese più o meno ma effettivamente ho fatto tante letture, ho fatto tanti acquisti vedremo un po' nel dettaglio e vi dirò anche due paroline in più su quello che ho acquistato e che ho letto magari ma del quale non ho fatto dei video frontali o non ho intenzione di fare dei video frontali come al solito nella barra del tempo potete andare direttamente sulla casa editrice, l'etichetta che più vi stuzzica o che più affine al vostro gusto non perdiamoci troppo in chiacchiere e partiamo dopo la sigla maggio è stato l'inizio della edizione delle Disney Icon Card Collection in particolare il primo numero era dedicato ovviamente a Topolino questa è la card, vi mostro il fronte, vi mostro il retro vi dirò che cosa ho acquistato sia Disney che non Disney per avere questa card e intanto partiamo quindi dai contenuti più disneyani e partiamo da quello che ho acquistato di mio non per la card ovvero sia i due volumi delle grandi saghe Disney con il primo numero di Topolino Kid e il secondo numero di Topolino 2802 molto bene questo, mi è piaciuto ma era una storia che già conosco da non amante del western è un western che mi piace da non amante del giornale non mi piacciono un sacco di cose nella vita battute a parte, storia sul giornalismo e che vedono Topolino un pochettino più in difficoltà rispetto al solito e infine anche il numero 24 con la seconda parte di Topolino Kid e Pippo 6 colpi tre storie contenute all'interno di questo volume disegnate da Massimo De Vita e Giovanni Battista Carpi i testi sono tutti, non è vero i del primo e della seconda storia sono di Guido Martina dovrebbero essere sbagliate le note all'interno dell'indice sono sbagliate le note dell'indice perché Giovanni Battista Carpi è sia l'autore che il disegnatore di Topolino Kid contro Jack la Vaporiera, la seconda delle tre storie piccolo refusino, piccolo errorino a livello di extra abbiamo molte poche cose le storie sono comunque carine ed è un western che comunque mi piace mi è piaciuto parecchio e quindi ve le consiglio ho acquistato anche il Paperino 515 del mese di maggio l'ho acquistato per avere il cappello di Paperino che vedete qui per l'appunto questo qui le storie contenute all'interno sono tante svariate l'ho anche letto ma l'ho dimenticato fondamentalmente subito dopo averlo letto tanto che le storie non mi hanno preso non mi hanno coinvolto né le storie storiche né quelle più presenti però come lettura, come passatempo in realtà ha fatto il suo dovere facendomi passare quei 20 minuti di tempo quella mezz'ora di viaggio andando verso il lavoro per avere la Icon Card a livello Disney ho acquistato Darkwing Duck, The Dark Knight Returns avevo comunque intenzione di acquistarlo ero molto incuriosito dal vedere come era questa storia in un formato migliore del club dei supereroi l'ho letto, l'ho stra-apprezzato mi è piaciuto molto come storia riprende ovviamente, lo si vince dalla copertina il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller in versione papera con Darkwing Duck come protagonista con un Darkwing Duck che fondamentalmente ha le prese con gli stessi dilemmi del ritorno del Cavaliere Oscuro ma in una versione paperizzata se vogliamo parodizzata ho acquistato anche Grandi Autori dedicato a Giorgio Cavazzano anche questo ero interessato e volevo averlo fondamentalmente volevo vedere com'era una bella proposta da una selezione di 5 storie una per ogni decade da quando Cavazzano sta lavorando fondamentalmente per Disney con un ampio apparato redazionale è uscito anche per questo un video dedicato come per Darkwing Duck sono molto contento della direzione che ha preso questa testata anche perché era quello che mancavano questi approfondimenti per rendere questa testata un qualcosa di diverso un qualcosa di più peculiare mi auguro che si prosegua in questa direzione anche per dare un senso alle storie che poi vengono in un qualche modo raccolte Zio Paperone, centonesimo canto terza storia del ciclo italico che è diventata una pentalogia una quadrilogia con la storia di Manzoni sull'ultimo topolino possiamo dirlo Paperone va in Italia dai Quacquaroli ovviamente i Quacquaroli hanno scoperto qualcosa su Dante Anatrieri in questo caso specifico e viaggeranno per cercare di scoprire cosa nascondeva il suo mo' poeta e se esiste davvero un centonesimo canto bell'edizione, bel formato anche se non impazzisco per questo formato super mega gigante comunque è molto carino, molto gradevole aumento di prezzo di copertina per questa collana riciclo di copertina mmm, qualcosa mi sta sfuggendo probabilmente le cose non stanno andando benissimissimo ho acquistato e letto anche il dodicesimo numero del Club dei Supereroi numero secondo me un filino sottotono al netto del fatto che non c'è più una distinzione netta tra le varie sezioni e che delle vecchie sezioni di fatto è rimasto solamente la parentesi su Super Pippo con due storie una di Candy e Bottaro se non ricordo male di Candy e Bottaro l'altra di Artista Sconosciuto e Giorgio Cavazzano si prosegue poi con un ciclo di quattro storie in cui non si parla tanto di supereroi in cui non ci sono i nostri come supereroi ma si parla del media fumetto supereroistico in una qualche maniera con delle intuizioni interessanti tra cui Topolino il referendum degli eroi dove si deve votare tra due supereroi fondamentalmente e Topolino e Gamba di Legno acquisiranno momentaneamente i panni di quegli eroi abbiamo poi la super collezione in cui il paperino misura che ha la collezione più lunga tra lui e Gastone ok Super Pippo e falsificatore di fumetti una storia con Super Pippo dove ci sono dei bassotti che stanno facendo circolare fumetti falsi dove i supereroi perdono ok e missioni impossibili Topolino e il super sfiduciato qua abbiamo Topolino che ha a che fare con un supereroe che è anche l'autore di una serie supereroistica ambientata a Topolino ok però lui è super sfiduciato quindi perde sempre la parentesi secondo me ci poteva anche stare con una storia distribuita su quattro numeri diversi così tutto insieme non ci sono storie di Paperbat che comunque erano divertenti e un po' mi è mancato non ci sono le storie del club dei supereroi e sembra quasi più una parentesi per parlare del mondo fumettistico supereroistico all'interno di una collana che invece ha come fulcro quella dei supereroi quindi capisco l'idea non mi è dispiaciuto da tutto tondo ma non mi ha convinto al cento per cento c'è poi una storia breve di Darkwing Duck che era in appendice all'Annual dove c'era la storia che abbiamo già visto in passato e che vede Ocalina come assoluta protagonista e poi c'è il ritorno di una storia danese disegnata da Freccero con i nostri nipotini come supereroi spaziali albo che quindi non mi sento di dire essere brutto non è stata una brutta lettura ma non ho ben capito dove volesse andare a parlare anche questa copertina con Papyrinik che neanche compare all'interno di questo numero proprio non c'è e i tre nipotini nei panni di Papyrinik per quanto possa essere carina per quanto sì queste copertine non hanno mai avuto una vera affinità con i loro contenuti o almeno ce l'hanno avuta ma era un po' vaga per una storia magari qui è proprio forzatamente non lo so temo che effettivamente dopo l'annuncio sull'ultima anteprima che il tredicesimo sarebbe stato l'ultimo un po' ci credo dopo questo numero mi augurerei di no però così è oltretutto le informazioni del prossimo numero sono in terza di copertina quindi proprio brutale brutale così mi ha stranito un po' mi ha stranito un po' ripeto finché continuo lo prendo perché comunque è una lettura piacevole però questa secondo me ha un po' parecchio deviato rispetto al solito l'ultimo volume che ho acquistato per avere la Topolino da Icon Card è questo Classic Remake dedicato a Paperino sul Monte Orso fra lo passato e presente contenente la classica storia di Karl Barks di Paperino e Natale sul Monte Orso il remake diciamo così ad opera di Tito Faraci e Giorgio Cavazzano che è una versione danese con tanti autori al suo interno ovvero Sia di Paperone e un altro Natale sul Monte Orso che non avevo letto che non conoscevo e che ho apprezzato particolarmente non una testata must have ma la seconda di questi due numeri di questa colonna qui era già da un po' che lo volevo però cosa facevo prendevo il secondo senza prendere il primo quindi ho letto anche il primo e leggere a maggio storie dedicate al Natale è molto molto strano è molto 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 strano strana natalizia secondo me molto carina se volete regalarla a qualche appassionato disneyano o meno nel periodo di Natale è perfetta è letteralmente un acquisto perfetto si parla dello spirito del Natale che cosa simboleggia il Natale per esempio Paperone piccole cosucce c'è qualche extra il formato è quello gigante delle deluxe che su queste storie qui funziona o non funziona anche perché anche le storie di Carbarks diciamo in quattro strisce hanno un sacco di margine quindi le storie danesi hanno anche quelle quattro righe ma hanno anche quelle un sacco di margine molto carina visivamente tra l'altro la danese mentre quella italiana di Cavazzano ha secondo me ancora più margine perché abbiamo solo quattro righe però un acquisto che mi è piaciuto fare è una lettura che mi è piaciuta fare soprattutto per la danese che non me l'aspettavo ma è stata molto 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 carina andando su cose un pochettino più recenti delle quali usciranno i video prossimamente le più belle storie di Casti con Topolino e il raggio di Atlantide parliamo della Thriller Collection è il terzo numero come si può vincere dalla costina con altre due storie del ciclo di Atlantide ve lo dico già lo dirò anche nel video non si conclude il ciclo di Atlantide ma questo poiché non è ancora concluso queste sono le ultime due storie uscite sul Topolino tra cui anche il raggio di Atlantide che è una piccola bella chicchetta quindi storie di avventura che vi consiglio anche se il ciclo non è finito sì ma aspettate il video settimana prossima dove ne parliamo meglio sempre settimana prossima dovrebbe uscire anche il video dedicato ad Actopia il Topolino Extra Graphic Novel con la storia di Licia Troisi Francesco Cardibani predisegni di Francesco Di Polito che spero di incontrare anche solamente a Lucca o qualche altra manifestazione per fargli firmare schiacciare eventualmente il volume il fantasy che ritorna sulle pagine del Topolino dopo anni di egemonia di Wizard Wizard of Mickey con i nostri protagonisti Topi e Paperi riuniti insieme a riprendere molti dei classici dei cliché se vogliamo così del genere fantasy qualche extra qualche approfondimento tra l'altro diverse pagine di bozze di studi di ambientazioni di studi da parte di Francesco Di Polito cosa molto gradita una bella intervista sia a Licia Troisi che a Francesco Artibani questo volume mi sento di consigliarlo nonostante la copertina riciclata diciamo così e ultima nota mi sarebbe piaciuto avere se proprio devo fare una piccola postilla il corrispettivo dei personaggi parodizzati perché quello di Pico mi sfugge quello di Pico mi sfugge su quello di Emelia ho qualche dubbio ma quello di Pico mi sfugge completamente ultimo ma non per importanza in ambito disneyano anche perché è isola da panini passiamo alla Dynamite quindi all'America agli spillati americani dove stanno uscendo sono appena iniziato adesso delle serie delle mini serie regolari sui villain classici disneyani e per quanto non sia questo il mio preferito stiamo parlando di Scar non potevo esimermi non lo conto come volume nel senso che è uno spillatino da 20 pagine faccio fatica a considerarlo come volume lo considero tale una volta finita la mini serie visivamente non è particolarmente impressionante la storia vede in questo caso specifico Scar riflettere un po' sul ruolo che ha all'interno della giungla e sulla sua relazione con Mufasa vedremo dove si andrà a parare non è che da questo Scar mi aspetti chissà che cosa visivamente la copertina è una roba fotonica fuori di testa gli interni sono un po' quel che sono diciamocelo peccato però questa qui sarà una serie che volevo fare perché mi piace mi piaceva l'idea di avere queste serie di villain e magari penso di farla direttamente in spillati americani nonostante mi costeranno un sacco nel caso in cui dovessero fare un volume italiano avrei risparmiato ma per l'appunto ormai la decisione è stata presa magari valuterò un attimo quale villain fare e quali eventualmente saltare tipo Crudele Demon la salterei molto volentieri però di quello ne parleremo man mano nel corso dei prossimi mesi lo inserisco sempre qui ma poi lo riproporrò anche in Marvel ho preso due copie della variant di Amazing Spider-Man con la cover in questo caso di Pastrovicchio dedicata al guanto dell'infinito due copie una da collezione da tenere da parte per DC Comics ho letto Batman One Bad Day dedicato a Ra's al Ghul ultimo episodio di questo ciclo di storie dedicate alla brutta giornata dei vari supereroi in questo caso l'ecoterrorista Ra's al Ghul che ha una brutta giornata veramente infima terrificante terribile ma nel senso sbagliato del termine e decide che svolgerà un piano per epurare il mondo abbastanza estrema come idea e le pozze di Lazaro sono troppo potenti ho fatto un video a riguardo vi invito nel caso ad andare a vederlo ho preso perché le avevo tutte le altre copertine in questo formato il primo numero del Freccia Verde appena rilanciato nella Dawn of the Sea principalmente perché c'era questa cover Warp Around e quindi mi piaceva avere anche questa visto che ho quella di tutti gli altri personaggi DC principali non l'ho letto aspetto il volume con tutta la mini per leggerlo fondamentalmente perché ci volevo dare comunque un'occhiata ma aspetto il volume in digitale anche perché il primo episodio ho capito che non ha fatto proprio faville faville quindi ho ancora meno voglia di leggerlo per i best seller DC ho acquistato Lanterna Verde numero 7 ad opera di Geoff Jones e i numeri 8 e 9 della J Lady Grant Morrison che va sempre più vicino alla sua conclusione dovrebbe esserci vista questa copertina qui per lo meno l'inizio di One Million uno degli eventi cardine della sua gestione passiamo invece cartonati a ciccia cicciosa Aquaman Le Cronache di Atlantide volume bello pesantone volume che ci racconta l'epopea di Atlantide tutta la storia di Atlantide dalle origini come è nata Atlantide come si è affossata Atlantide i vari re che si sono sosseguiti una sorta di Game of Thrones se vogliamo più o meno la sensazione è quella di leggere tutti questi vari intrighi ed opera di Peter David i disegni sono dello spagnolo sudamericano credo Esteban Maroto che ha fatto davvero un lavoro egregio è molto molto carina questa mini sia da leggere che da guardare molto buona la primissima parte un po' meno la parte conclusiva quando finisce la maxistoria di Ori nella sua discendenza e quando si passa a raccontare un'epoca più recente la prima parte mi è piaciuta veramente tanto mi sentirei di consigliarla i primi quattro capitoli e mezzo sono secondo me il must di questa di questa storia la seconda parte del quinto capitolo e il sesto si risolve un pochettino meglio nell'ultimo ma purtroppo secondo me un po' si era andato a perdere proprio lì nel mezzo comunque molto interessante molto piacevole e per gli amanti di Atlantide dell'Atlantide della DC e di Aquaman è comunque un tassello bello importante da avere a mio parere per avere l'icon card Disney ho recuperato Batman Assassino bella storia mi è piaciuta era una di quelle storie che avrei voluto recuperare prima o poi quindi di tanto in tanto recupererò nel corso di questi mesi tutta l'epopea Bruce Wayne Assassino e Batman Fuggitivo qui abbiamo tutta l'epopea di Assassino che di fatto è lunghissimo prologo con tutta la Batfamiglia raccolta cosa succede? succede che Bruce Wayne viene accusato di un omicidio viene sbattuto in prigione fondamentalmente e tutti cercano di capire che cosa stia succedendo e se si può fare qualcosa ho una versione di questa storia e poi ne ho un'altra ne ho due copie ne ho due copie perché la copia che avete visto che mi è arrivata senza bollino per quanto era evidente che ci fosse un bollino ma tutto sommato mi poteva andare bene era fallata c'era un difetto di stampa quindi ho contattato Panini che me ne ha inviata una seconda copia con bollino l'ho sfogliato è tutto a posto quindi era un evidente problema di stampa ho acquistato e letto da ho visto cose Infinite Frontier l'evento che ha lanciato diciamo l'ultima gestione l'ultimo rilancio editoriale della DC Comics un lunghissimo evento dove non succede nulla fondamentalmente è un lungo prologo agli eventi futuri mi è dispiaciuto allora mettiamola così mi è stato detto che era brutto e quindi mi sono preparato a una roba terrificante non l'ho trovata così terrificante ma è un prologo infinito sono 350 pagine di prologo a qualcosa che non so se è come quando leggerò ho acquistato ma non letto sempre da ho visto cose Batman Cavaliere Bianco Beyond l'ho acquistato e non letto perché volevo rileggere prima i tasselli antecedenti di questa epopea ma nel corso del mese di maggio non l'ho fatto in tempo fondamentalmente avevo altre priorità di lettura e leggere quattro volumi anche abbastanza cicciosi non pensavo di farcela quindi l'ho accantonato a favore di altra roba che dovevo leggere che era in uscita quindi però sarà una delle letture di giugno quasi sicuramente non vedo l'ora perché Sean Murphy mi era piaciuto molto in Cavaliere Bianco e nel suo sequel che di cui adesso mi sfugge il nome che vi ho già parlato sul canale non avevo ancora letto l'epopea di Harley Quinn anche perché questo doveva essere l'ultimo quindi mi sono detto mi faccio una rilettura completa con tutto la farò nel corso di giugno fondamentalmente visto che mi mancava ho recuperato il DC eventi dedicato a crisi finale usato da Vinted tra l'altro nonostante l'ammaccatura che spero si veda qua e i bordini che sono tutti tutti questo sono tutti un po' sbucciati Vinted ha dato ragione il venditore per Vinted è a posto sto volume ok ok di solito non sono pignolo ma quando spendo più del prezzo di copertina per un volume lo vorrei intatto così non è stato quindi su Vinted se i volumi vengono rovinati non è colpa di nessuno è colpa vostra che avete acquistato sappiate non acquisterò più nulla su Vinted in digitale ho letto non uno non due non tre ma quattro volumi della serie di Detective Comics di Mariko Tamaki anche se qui vedete solamente gli ultimi diciamo tre diciamo così il ciclo di Shadow of the Bat farò un video registrerò un video a breve nel quale vi parlerò di tutta questa seconda parte di seconda e conclusiva parte di gestione inizialmente volevo fare tre video sulla gestione di Mariko Tamaki uno con l'inizio uno con tutto il ciclo Shadow of the Bat e uno col finale ma il finale sono tre spillati e quindi non ha senso farci un video sopra a mio parere considerando che c'è roba più interessante di cui parlare e niente ne parleremo più nel dettaglio ma se diciamo il quartiere mi era un pochettino piaciuto Fear State ma ancora ancora il resto declino totale ho letto anche Man and Superman di Marfo Wolfman e Claudio Castellini nella sua edizione Deluxe per quanto io abbia letto solo la storia principale ve lo dico chiaro e tondo non sono andato a leggere e sfogliarmi tutti mille mille mila extra una reinterpretazione da parte di Marfo Wolfman dei primi passi di Clark Kent a Metropolis visivamente è fenomenale è veramente una storia fenomenale televisivamente il disegnatore Claudio Castellini italianissimo mi ha fatto un lavoro fuori di testa pagina dopo pagina e di questa storia a cui mi piacerebbe parlare farci un video dedicato dovrei riuscire a farcela in più o meno in uscita della versione diciamo panini quindi magari vi dico due parole in più su questa storia quando sta per uscire il volume ma se vi piace Superman e che cosa rappresenta questa è secondo me una storia che può valere la pena di avere non un must have ma una buona storia visivamente molto 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 appagante per Marvel vi faccio rivedere la copertina variant di A Mating Spider-Man dedicata ad Infinite Gauntlet al guanto dell'infinito in chiave Disneyiana ve l'avevo già fatto vedere in chiave Disney ma ve la ripropongo qui nella sezione Marvel sezione Marvel per la quale ho letto una roba che di marmigliano è davvero molto molto poco se non nulla e che anzi in questo momento non è neanche parte della famiglia Marvel sto parlando del primo numero dell'integrale di Conan il Barbaro del quale avevo aspettative venivamo parlato abbastanza bene c'ero i Thomas ai testi che sul Thor mi era piaciuto davvero tanto c'è Winston Smith ai disegni e mi ci sono approcciato ho letto questi primi quattro capitoli e non ho capito se mi è piaciuto o meglio c'è tanta epicità c'è tanta voglia di raccontare qualcosa di fantastico ma questi primi quattro capitoli non mi hanno fatto capire se mi piace o meno questa serie prenderò sicuramente il secondo e il terzo numero gli darò un pochettino di spazio per giudicarlo visivamente è molto molto piacevole e è vero che stiamo parlando di un bonellide quindi di uno spazio molto molto piccolo però si riesce a leggere abbastanza bene lo trovo abbastanza godibile fruibile e visivamente per quanto siano abbastanza dettagliati i personaggi non sono dettagliati quanto i personaggi moderni e quindi si lascia guardare anche in questo formato più piccolino per Marvel ho letto Star Wars Target Vader diciamo in chiusura alle letture delle serie regolari di Star Wars ho voluto leggere anche questa storia che ci parla dei cacciatori di taglie in primis che vanno alla ricerca di Darth Vader per catturarlo per un'altra agenzia per un'altra organizzazione la mano nascosta devo ammettere che però come storia alla fine è riuscita a convincermi e a piacermi una buona caccia all'uomo molto tesa molto adrenalinica almeno nella sua prima parte un secondo tempo che si discosta un pochettino ma risulta essere sempre molto efficace molto efficiente che va a spiegarti quello che stai leggendo e che cosa stia succedendo ma a farlo con una chiave di lettura molto interessante ed intrigante una buona storia non un must have ma tra tutte le serie che ho letto di Star Wars dopo tutta la maxi gestione di Gillen tra Darth Vader e Star Wars questa è stata probabilmente la storia che mi è piaciuta di più in assoluto ho letto anche tutti e qua tutti e cinque gli spillati di The Last Ronin ho cercato di farvelo vedere con un po' qualche riflessino per non rovinarvi eventualmente le copertine e farvi quindi direttamente qualche spoilerino la storia finale delle tartarughe ninja di Peter di Kevin Eastman e Peter Layard il finale definitivo ho già realizzato un video che uscirà la settimana in cui uscirà il volume per Panini quindi quando uscirà uscirà anche la mia video opinione a riguardo però ve lo anticipo mi è piaciuto moltissimo siamo nel futuro una sola tartaruga ninja è rimasta in vita e deve compiere quell'opera di vendetta per vendicare per l'appunto la morte di tutti quanti i fratelli di tutti quanti di diversi degli alleati e riportare la giustizia e l'equilibrio tra le strade di New York City bella 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 abbastanza cattivella una storia come abbastanza cruenta un pochettino più cruenta rispetto alla serie EW e che non richiede la conoscenza della serie EW funziona secondo me molto bene a se stante non ha bisogno di troppe conoscenze pregresse chiaro che aiutano ma non sono fondamentali non sono indispensabili per Planet Manga ho letto Full Metal Alchemist speciali per il ventesimo anniversario un volume che tra l'altro contiene il numero 20 qui a lato e la serie si conclude nei 18 numeri sembra che sia il ventesimo numero e che manca il diciannovesimo non è vero prezzo di copertina sempre 12 euro più di 200 pagine ma il volume è la metà quindi la carta è molto più sottile e si vede e si vede cosa contiene questo volume tutta la raccolta di storie storielline che sono uscite nel corso degli anni sempre realizzate dai Romer Akawa per Full Metal Alchemist come gadget promozionale per vari ed eventuali per l'uscita del film animato per l'uscita dei videogiochi per l'uscita del film uscita nel 2017 più tutta una serie di ringraziamenti da parte di addetti ai lavori e quant'altro per ringraziare Iroh Morakawa e per ringraziare il pubblico di aver seguito la serie ve lo dico chiaro e tondo a me piace Full Metal Alchemist mi piaceva avere un qualcosa di particolare per festeggiare il ventesimo anniversario però quest'albo qui è veramente proprio per gli ultrapatiti che vogliono essere stracompletisti perché l'unica cosa davvero interessante a mio parere sono una ventina di pagine del capitolo Full Metal Alchemist Zero che va a raccontare fondamentalmente il giorno in cui Edward è diventato alchimista di stato per il resto l'albo è abbastanza fine a diciamo fine a se stesso per non dire inutile però l'ho letto il problema è che ha tutte le cose promozionali ma poi sono tutte cose promozionali che sono legate alle storie dei film e dei videogiochi e che lanciano i film e i videogiochi quindi non è neanche fruibile a se stante come volume quindi se siete ultra fan valutate l'acquisto io un po' ne sono pentito ho acquistato ma non letto il quinto numero di Neongenesis Evangelion non lo leggerò fin tanto che non avrò la serie completa però intanto posso mettere via la quinta cartolina data in omaggio con la serie per Planet Manga ho preso il diciamo l'ultimo numero di 20th Century Boys con gli spin-off dedicati anzi con lo spin-off la serie spin-off dedicata alla serie adesso che ho questo posso leggere tutto lo farò con calma mi vedrete leggerlo forse in qualche lettura da treno durante questa estate almeno me lo auguro perché se state qui vorrei leggere un sacco di cose ma non so se ce la farò però ci proviamo ho invece letto il terzo numero di Bentornato Alice prosegue questo manga molto deviato da parte di Shuzo Oshimi un numero che mi è piaciuto un numero che mi è piaciuto che vede i nostri due protagonisti il maschile e il femminile fondamentalmente cominciare ad approcciarsi l'uno all'altro non senza difficoltà tato dal terzo incomodo che è il nostro coprotagonista non mi ricordo mai i nomi faccio fatti io i nomi non me li posso ricordare comunque da questo ragazzo transgender un ragazzo che non si definisce un ragazzo un ragazzo fluido chiamiamolo un po' come vogliamo che non va ad insinuarsi tra i due in questo caso specifico però la sua presenza continua ad aleggiare nell'aria non so dove Shuzo Oshimi voglia andare a parare oltretutto la serie dovrebbe essere breve perché saranno 7-8 volumi e va bene così vediamo questo risveglio della sessualità da parte del protagonista e vedremo dove si andrà a parare come si andrà a finire sempre per Shuzo Oshimi ma cambiando linea editoriale Goen con Drifting Next Cafe arriva finalmente il settimo e ultimo numero quindi adesso posso proseguire ovviamente bentornata lì cioè man mano che uscirà non ho una trama così sfaccettata che rischio di non perdermi nel corso della lettura diciamo così e per questi invece posso finalmente mettermici sotto a cominciare su Shuzo Oshimi aspettavo di avere il settimo volume per cominciare dalle origini andando a leggere quest'autore in ordine diciamo così in ordine di uscita fondamentalmente tranne che per bentornato a lì c'è che visto anche il tema volevo capire se mi piaceva o meno e a sto punto già che sono in ballo continuiamo a ballare per Star Comics ho letto Sensei a Cavaliere dello Zodiaco 5 dove c'è tutta una lunghissima storia con Pegasus con Athena che devono andare devono partire si devono preparare per affrontare il santuario e i cavalieri dorati io non ho mai visto l'anime dei Cavaliere dello Zodiaco mi ci sto approcciando adesso continuo ad essere dell'idea che sia abbastanza invecchiata come serie ma c'è qualcosa nello stile nel modo di porsi nel modo di parlare che mi ha fatto estremamente mi sta facendo piacere è proprio una lettura molto codibile molto retro ma allo stesso tempo estremamente piacevole quindi mi sta piacendola quindi sono molto contento ho recuperato il numero 1 in variant di A Couple of Cuckoo's sintomo che mi era piaciuto ho letto anche il 3 un manga romantico scolastico uno shoujo direi molto semplice molto carino qualche elementino fanservice in qua e là giusto per condire un po' la situazione un pochettino piccante dove abbiamo il nostro protagonista che è innamorato di lui che è innamorata di lei che è innamorata di un altro che bla 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 carina vicende scolastiche molto leggera molto scansonato uno slice of life che riesce comunque a intrattenermi durante la lettura e a strapparmi due risate ma riesce ad essere anche abbastanza profondo quando serve quindi mi sta piaciucchiando non un must have ma molto carino Claymore Claymore invece mi sta piacendo molto questo sesto volume mi ricordava alcuni dettagli ma non tutti e mi è piaciuto vedere effettivamente Clayre alle prese con effettivamente due minacce belle belle poderose due nemici belli potenti due risvegliati due yoma famelici come vengono definiti che hanno altissimo potenziale ci dimostreranno che in realtà Clayre è qualcosa di più di quello che sembrava Dulcis in fundo ho preso il 17esimo numero di Ariadne nel Blue Sky serie sempre di Noriro Yagi sempre l'autore di Claymore che volevo iniziare fondamentalmente in questo momento yada 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 poi in realtà si è scoperto che il 22esimo è l'ultimo siamo 17 e bimestrale a sto punto lo leggo tutto nel corso del 2024 perché finirà e avrò modo di averlo tutto e di leggerlo tutto con continuità fondamentalmente direi che ha senso ha più senso che cominciarlo adesso poi dover aspettare mesi per gli ultimi 5 numeri e magari scordarmi tutto invece aspettiamo di aver tutto per editoriale Cosmo il 15esimo numero di Elfi anche questo come tutta quanta la serie acquistato e non letto a breve ci saranno le guerre di Arran cercherò magari di cominciare le varie serie per capire bene come sono fatte però i primi numeri mi erano piaciuti e ho trovato più difficoltoso cercare di recuperare i primi numeri che non prenotare acquistare nuovi il fantasy mi piace l'idea di avere qualcosa di molto classicheggiante fantasy mi piace quindi intanto sto proseguendo l'acquisto poi prima o poi scoprirò se mi piace o meno anche come serie però il primo numero non mi era mi era piaciuto quindi speriamo che siano tutti così doppia dose di I am a hero questo mese 13 e 14 doppia dose che è riuscito a convincermi parecchio la scena ritorna sul nostro hero e sulle sue due nuove compagne diciamo di squadra e è una storia anzi questi due capitoli sono molto d'azioni molto molto veloci si legge letteralmente sono due volumi che penso che in un quarto d'ora li legiate entrambi tanto la lettura è frenetica ma è una storia comunque che risulta molto avvincente riesci a tenerti sempre col feto sospeso non sa mai come le cose andranno a finire perché le situazioni potrebbero precipitare letteralmente da un momento all'altro bello 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 non vedo l'ora di andare avanti abbiamo superato il giro di boa e non so se voglio sapere o meglio so che il finale non è piaciuto per non so quale motivo ma penso che ricorderò questa storia sinceramente per gli attimi di tensione che mi ha fatto vivere provare capitolo dopo capitolo per i vari protagonisti per quello che gli sta succedendo piuttosto che per la spiegazione di che cosa sia questo virus che sta rendendo tutti zombie cosa che sinceramente mi interessa arrivato a questo punto del manga letteralmente zero per la storia per la storia ho letto eva cant quando diabolic non c'era secondo volume di questo formato grande che riprende però le storie ambientate nel passato dei protagonisti ecco in questo caso abbiamo la storia d'origine se vogliamo così di eva con il background il passato disegnato da palumbo leggermente ricolorato così come avevano fatto per il re del terrore remake dove c'erano delle parti in blu nel presente diciamo così del flashback e il rosso per il passato del flashback qui non c'è un niente qui c'è solamente il blu ma ha senso perché la storia è tutta ambientata nel passato c'è la nostra eva che va a ripensare a tutto il suo trascorso c'è un furto che l'inizio diabolic farà che porterà in auge alcuni ricordi questa storia qui mi era piaciuta tantissimo la prima volta che l'ha lessi e continua ad essere una storia di vendetta che mi piace veramente tanto l'ho apprezzata tanto 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 l'ho riletta l'ho riamata come la prima volta abbiamo Sandrone Dazzieri Tito Faraci ai testi Giuseppe Palumbo a fare la parte centrale Emanuele Barison a fare il prologo e l'epilogo della storia ambientata ai giorni nostri non ci sono tanti extra c'è qualche studio delle copertine però ci sta se volete conoscere chi era Eva fatevi un favore questa è una lettura secondo me imprescindibile è una gran bella storia bella bella consigliata penso che ci farò un video dedicato più avanti non avrà tantissime visualizzazioni ma per Eva ci tengo veramente tanto per questa storia ci tengo veramente tanto anche solamente a presentarvela e dirvi due parole in più e passiamo a Bao Publishing che questa volta mi ha un po' diciamo ha voluto ha voluto i miei soldi in realtà parto da una cosa che vi ho fatto vedere il mese scorso e alla fine muoiono saggio breve saggio breve è un parolone un saggio diciamo così sulle fiabe ad opera di Leubi francese ci parla un po' di c'è c'è il riassunto di molte delle fiabe più o meno note contatto di comparazione di confronto con altre fiabe simili ma c'è anche un studio una visione di che cosa sono le fiabe che cosa simboleggiavano che cosa rappresentavano perché sono così che cosa volevano effettivamente raccontare elemento niente affatto banale con questo stile molto puccioso ma che riesce a diventare estremamente macabro mi sarebbe piaciuto effettivamente incontrare la votrice in quando era in quel del milanese per farmi fare uno schecchettino e fargli complimenti perché la storia la non storia il saggio mi è piaciuto e secondo me funziona se volete scoprire qualcosa di più sulle fiabe e questo può essere sicuramente un bel modo per affrontare l'argomento ma visto che doveva uscire il volume l'ho ordinato appena stato annunciato il conto a storie di radice e turconi non l'ho ancora letto non l'ho ancora avuto modo né tempo di leggerlo ma lo farò praticamente in sti giorni probabilmente in sti giorni quando vedrete questo video io avrò già letto questo volume ok visivamente risulta sempre molto 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 apprezzabile questa qui è la mia copia che ho preso in libreria perché è uscito in anteprima al salone del libro anche con la sua edizione variant ho avuto la fortuna di avere amici di amici che erano lì presenti quindi gli ho fatto acquistare la variant pro memoria quando ci sono turconi radice mai fare un ordine in fumetteria perché se esce una variant bella e la si vuole si finisce per avere un doppione quindi pro memoria la variant tra l'altro ci mostra il protagonista insieme all'altro il coprotagonista un sacco di animali un sacco di cose quindi il contastorie è uno che dovrebbe raccontare storie quindi tutto quello che ci mostra risulta molto carino anche l'interno è molto 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 interessante con un po' bisogno di insieme della foresta molto 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 apprezzato molto molto apprezzato non vedo l'ora di leggerlo non vedo letteralmente l'ora di leggerlo sembrava interessante e quindi ho acquistato anche di Irene Marchesini di Carlotta di Cataldo Rebis visibilmente mi interessava alquanto l'edizione variant deluxe era molto accattivante l'edizione variant deluxe sotto la sovracopertina in cartoncino molto pregiato anche se molto bianco molto pura questo disporlo perché si rovinerà sicuro contiene la copertina variant la copertina variant ha al suo interno alcune piccole chicchine come una cartolina non so se è un disegno originale se è una cartolina illustrata fatta per tutti quanti uguale non ne ho idea ma molto molto carina molto molto apprezzata tra l'altro questa qui è la mia copia 269 su 300 perché ce ne sono solamente 300 in deluxe se ho capito bene c'è sul fondo una parte che è solamente presente in questa sezione deluxe con un po' di approfondimenti extra dietro le quinte visivamente vi faccio vedere una pagina più o meno iniziale il protagonista albino che ha la malattura ok sembrava molto interessante l'incipit e qualche immagine mi hanno conquistato quindi l'ho acquistato ma mi è arrivato anche questo letteralmente il 29 di maggio e quindi non l'ho letto così come non avevo letto ma adesso si ok cose strane Love Everlasting di Tom King e di Elsa Charretti questo l'ho comprato abbinato a Rebis per avere le spedizioni gratis un po' perché ero comunque incuriosito da vedere cosa Tom King potesse fare e ho preso la Variant perché a quel punto se vai a prendere un oggetto Variant hai sempre qualcosa di un pochettino più particolare per quanto anche la copertina originale secondo me riesce a dire la sua forse anche più della Variant la copia è la numero 98 una storia d'amore con un personaggio che di fatto vive più vite è una roba un po' strana quella che ci presenta Tom King questa qui è la prima parte di non so quante presumo sia al solito una serie di 10 12 numeri qui sono raccolti i primi 10 il primo arco narrativo di questa serie che visivamente si presenta molto retro ma perché vuole essere una parodia non una parodia però vuole riprendere lo stile delle romance anni 50 anni 60 lo stile di Elsa Charretti ricorda molto quello di Darwin Cook quello stile volutamente ricercatamente retro e quindi o di Chris Amni ha quello stile che ricorda questo elemento e non lo il concetto è l'ho letto ma l'ho letto oggi che è il primo di giugno quindi non fa parte del letto è un acquisto di maggio ma l'ho letto a giugno nel momento in cui sto registrando queste clip per motivi esigenze personali è già giugno quindi sì l'ho già letto ma non fa parte del lettore di giugno infatti non lo considereremo ho preso la variant come dicevo perché mi piaceva anche se anche la regolare anzi col senno di poi la regolare ha molto più fascino e molto più senso però che vuoi dirci penso che se mai parlerò di questa opera sul canale sarà quando avremo il quadro di insieme completo perché sì ho bisogno di un quadro di insieme completo perché effettivamente un protagonista una protagonista che si innamora tutte le volte che si innamora sta per sposarsi c'è un cambio di scena lei non ricorda più niente rivive una storia d'amore con altri personaggi è una storia che almeno all'inizio ma molto stranito soprattutto i primi capitoli che ci raccontano tante storie poi si concentrano su vicende più lunghe fino all'ultimo capitolo che va a chiudere questo primo arco narrativo che fa capire che c'è qualcosa dietro c'è qualcosa alle spalle di tutta questa situazione il prezzo di copertina è di 20 euro che dovrebbe essere il prezzo di copertina anche dell'edizione regolare parliamo comunque di centinaio di pagine 120 pagine al prezzo di 20 euro per un brossurato sono un po' tantini sono un po' tantini per lo meno diciamo così ho recuperato un elemento un pochettino più di pregio per tatai lab ho fatto un po' di acquisti folli parto da quello che non ho letto che è lizard tales perché mi piaceva questo concept questo mondo animalesco antropomorfo ma la copia che vedete sotto mano è fallata ho già mandato una mail a tatai mi restituiranno il volume mi hanno già inviato in realtà una copia sostitutiva ma non ce l'ho ancora sotto mano perché questo volume e i prossimi che ho ordinato insieme ad una cosa specifica di cui vi parlerò a breve li ho ordinati sì ma sono arrivati la penultima settimana del mese quindi ho avuto poco tempo e non volevo leggere avendolo sfogliato avendo trovato degli errori grossi di colorazione delle sbavature molto pesanti non l'ho letto e mi sono rifiutato di leggerlo aspettando per l'appunto la copia sostitutiva ho invece letto Livania di Francesco Vacca e Alessandro Costa una love story molto sentimentale molto romantica una storia in bianco e nero anzi con una matita e china mi verrebbe da dire molto particolare un viaggio diciamo così nel passato ma che giunge ai nostri giorni una storia d'amore mista magia misti a tradizione del Piemonte almeno questo è quello che ci viene detto all'interno del volume che ho particolarmente apprezzato Francesco Vacca qui mi è piaciuto gli ho fatto i complimenti in privato in realtà perché ci stavo dopo averne parlato male sulle pagine del Topolino per alcune storie sue che non mi erano piaciute per niente qui ha trovato una dimensione secondo me molto sua molto personale molto anche visivamente in realtà è molto pulita molto classica potenzialmente è disneyana questa roba qua bella bella molto molto carina molto molto apprezzata non so se ci farò probabilmente ci farò un video dedicato ma uscirà molto in là nel tempo però magari ve ne parlo ok l'acquisto che volevo fare per Tatai era ovviamente l'ottavo volume di Luxastra dedicato ad Alastor col volume intitolato Inganno contiene due storie una lunga quella principale proprio sul passato di Alastor e visto che ho fatto il preordine al solito c'ho la cartolina c'ho la cartolina e niente visivamente non è una storia che mi aveva fatto impazzire quella principale la storia in realtà è divisa in due tempi in due atti il secondo funziona secondo me abbastanza bene il primo un pochettino scricchiola ma se volete sapere qualcosa di più su il passato e su come il nostro Alastor ha rimediato il suo strumento musicale e alcune sue imprese che l'hanno avvicinato al recorvo questo è il volume che fa per voi e in chiusura c'è anche una storia su George Ondal però di questo ve ne parlerò a breve anche perché ho intenzione come per tutti gli altri fumetti di Luxastra ho intenzione di farci un video dedicato in questi giorni da far uscire se non già direttamente la settimana che viene quella successiva per Sergio Bonelli editore ho recuperato un po' di cosini a parte i due albi regolari di Dragonero quindi il numero sette sia del mondo oscuro con questa bella impresa sotterranea dove si dovranno andare a salvare una città invasa dagli abomini ed è una storia che mi risultata molto molto interessante e il settimo numero delle mitiche avventure con tre storie di cui un paio brevine che vanno a mostrarci un altro po' di avventure dei nostri protagonisti tra l'altro la mini copertina di questo volume non so dove la possa aver messa spero di trovarla ma nel caso mi dispiace e mi tange il giusto per le mitiche avventure c'era questa ho trovato questa c'era solamente questa inedicola avrei voluto prendere questa ma non mi hanno dato alcuna possibilità di scelta ho preso invece dal sito della Sergio Bonelli editore perché volevo questo albetto per appunto la fabbrica dei sogni una raccolta di nove storie una per ognuno dei personaggi principali della Sergio Bonelli editore sette storie brevi il volume ha 140 pagine indicativamente mi interessava principalmente per la storia breve di Dragonero ma ho avuto modo di leggere un po' le storie anche degli altri personaggi bonelliani Tex Zagor Mr. No Martin Mr. Dilan Dog che avevo già letto in qualche altra raccolta mi era piaciuto i tempi mi è piaciuto anche qui Nathan Never Giulia Dampir e Dragonero consigliato non fate come me se lo trovate in fiera acquistatelo avete un po' la visione di insieme di questi personaggi alcuni magari vi possono piacere di più altri di meno ma magari scoprite qualcosa di questi personaggi che non vi potevate aspettare per arrivare a fare proprio cifra tonda per fare l'ordine da 50 euro perché sul sito della Sergio Bonelli editore devi fare almeno 50 euro per avere le spedizioni gratis e questo qui ne costava solamente uno visto che mi era rimasta un po' la voglia di appendere qualcosa al frigo ai magneti è un po' perché mi interessava capire perché c'era E.T. nella copertina di Dylan Doggoldboy ho comprato Dylan Doggoldboy non ho avuto tempo di leggerlo questo questo proprio letteralmente non l'ho letto anche perché la roba Bonelli mi è arrivata letteralmente l'ultima stimola del mese quindi questo è stato l'albo che ho sacrificato c'è però questo c'era questa mini copertina che era quella che volevo perché dopo la mezzanotte tra gli albi coletto di Dylan è il mio albo preferito non vi posso far vedere perché non ce l'ho più perché mi è arrivato danneggiato direttamente dalla casa madre Apocalisse di Castelli e Roy una storia un po' strana anche perché è un adattamento dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Evangelista chi era San Giovanni in realtà chi lo sa al netto di questo un insieme di visioni che lui ha avuto per l'appunto approfondite nel libro dell'Apocalisse e che Castelli ha voluto riproporre in una qualche maniera una chiave fumettistica il che rende l'albo un pochettino strano perché si parla proprio di visioni le visioni che l'autore del libro ha avuto e che parlano di non si sa bene che cosa l'Apocalisse è la fine del mondo ma è davvero la fine del mondo in quel senso queste visioni che significato hanno alle spalle la cosa interessante è che in mezzo in alcuni punti della narrazione Castelli ci ha infilato diversi personaggi famosi più o meno famosi più o meno noti che parlano anche dell'Apocalisse quindi anche diverse elaborazioni di interpretazioni quindi non è solo l'adattamento dell'Apocalisse ma anche un possibile approfondimento di quello che c'è alle spalle quindi un'opera interessante ma principalmente molto pagante perché visivamente abbiamo ancora Doroi secondo me è stato di assoluta grazia non volevo cioè fondamentalmente anche questo qui l'ho preso per fare l'ordine era una cosa che prima o poi avrei acquistato quindi ci ho ceduto Nathan Never Justice League tutta la squadra della Justice League dovrà unirsi agli agenti alfa di Nathan Never per l'appunto per affrontare una minaccia ibrida in realtà è una minaccia di Nathan Never in realtà ma che riesce a infestare Cyborg e creare un po' l'avventura che andremo a leggere diciamo che sì c'è la Justice League al gran completo ma fondamentalmente è Nathan Never Superman per me questo albo qui era Nathan Never Superman per quanto ci sono tanti eroi della DC sì visivamente è stata una storia molto carina forse ho finito per apprezzarla un pochettino di più rispetto a Flash Zagor mentre l'incipit di Flash Zagor mi era piaciuto molto questo incipit mi aveva convinto di meno ma la storia in generale mi è piaciuta non so se ci farò un video a riguardo può darsi di sì però insomma sappiate che ho letto e ho apprezzato anche questa visione un pochettino particolare della Justice League e l'ho apprezzata nonostante io non conosca Nathan Never e in realtà l'ho letto prima di fabbrica della fabbrica delle nuove storie brevi lì Nathan Never non mi è piaciuto per niente l'ho proprio trovato una storia nuove pagine forse una decina di pagine noiosissime verbosissime non vedevo l'ora che finissero ed erano nuove pagine fortunatamente avevo letto prima questo e qui mi era piaciuto la copertina è la Variant che ho scoperto che però acquistandolo dal sito non danno la litografia che presumo sia un'esclusiva per le fumetterie Manicomics quindi ho sbagliato io ordinare la Variant potevo ordinare la Regolare ma la Regolare che era comunque carina non mi ricordo quale sia però anche questa qui mi piaceva molto quindi va bene non ho la Lito ma ho una bella copertina come è andato questo mese di maggio a fare un conto semplicemente numerico ho acquistato 52 volumi e no letti 44 vero che vi ho detto che non dobbiamo considerare Scar né come lettura né come acquisto per quanto ve lo farò vedere comunque però diciamo che non lo contiamo non contiamo le Variant di Contastorie di Hack of All of Cuckoo's e non contiamo Crisi Finale che l'ho acquistato per avere diciamo la collana completa di DC e 20 in realtà dai 52 volumi acquistati è come se ne avesse acquistati solo tra virgolette 48 e ne ho letti 43 quindi ho letto un pochettino meno di quello che ho acquistato dall'altra parte è anche vero che ho recuperato un po' di roba americana in digitale sono andato avanti con alcune serie regolari con cui ero rimasto indietro e tutte storie un pochettino più lunghe di altre che ho tralasciato che non sono riuscito a leggere quindi diciamo che per alcune ho fatto quasi pari quindi ok diciamo che nel complesso è un mese che è andato tutto sommato bene a livello di foliazione direi che siamo pari tra il materiale acquistato e letto a livello numerico di volumi no è stato comunque un altro mese positivo perché comunque 43 volumi letti sono praticamente un volume e mezzo al giorno un volume e mezzo al giorno non è scontato non è banale e ho letto anche roba un pochettino lunghina ho letto anche roba corta ma ho letto anche roba un pochettino lunghina e sono piuttosto contento delle letture che ho fatto nel corso di questo mese piuttosto variegate anche gli acquisti sono stati molto variegati e molti di questi non sono riusciti a finirli anche perché sono arrivati letteralmente la penultima settimana del mese quindi sono trovato letteralmente in 4 giorni mi sono arrivati 4 pacchi quindi una roba tutta roba che avevo ordinato magari per tempo che mi ero lasciato illuvire da qualche particolarità ma non avrei fatto un tempo a leggere e altri si vero che il 31 l'ultimo giorno del mese avevo un impegno dovevo andare via pensavo di avere molto tempo per la lettura e pensavo di riuscire a leggere 3-4 volumi indicativamente ma sono sorti un po' di complicazioni non ho letto niente quindi è andata male ma ok poteva andare meglio ma va benissimo così il mese di giugno sarà un altro mese secondo me molto di fuoco perché molta roba panini che mi interessava si sta slittando e sembra che si riverserà tutto nel corso del mese di giugno una roba folle se le cose vanno così quindi sarà un altro mese bello ricco di acquisti molti da ho visto cose in realtà quindi qualcosa cercherò di farmi arrivare a fine giugno molta roba cercherò di farmela arrivare entro fine giugno ma non tutto probabilmente o forse sarà roba che arriverà nei primi giorni di luglio staremo a vedere ma c'è veramente tanta 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 roba in uscita prevista in uscita e più tutta la roba arretrata che ho da questi giorni quindi sarà un periodo abbastanza intenso per le letture che ho da fare questo però è quanto avevo da dire per voi per oggi all'interno di questo video spero che questo video vi sia piaciuto nella descrizione trovate qualche link amazon tramite il mio link di affiliazione potete acquistare le robe che reputo più interessanti magari vi linko le robe che reputo più interessanti tra quelle che ho letto così che possiate eventualmente recuperarle e nel caso vi aspetto nello spazio commenti per sentire il vostro giudizio il vostro parere in merito avete letto alcune di queste cose vi sono piaciute non vi sono piaciute concordate con il mio punto di vista non concordate discutiamone parliamone insieme liberamente qui sotto nello spazio commenti di youtube da francesco dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale ciao ciao